La banca di credito di Marina di Ginosa si rimette a nuovo, ampliando i locali della sede centrale per favorire una migliore fruibilità dei servizi ed una maggiore accessibilità nello spirito di un progressivo allargamento della base sociale anche grazie a nuove tecnologie che assicurano uno snellimento delle operazioni di sportello con la dotazione di una moderna cassa automatica una giornata che rappresenta il coronamento di un lavoro di squadra in un impegno corale partito 5 anni fa con l'obiettivo di un continuo rinnovamento la banca di credito cooperativo è patrimonio di tutti, fulcro e volano di un'intera comunità, un'eredità che va preservata e incentivata Noi siamo partiti con un progetto migliorativo, oggi la tecnologia affianca agli arredi e la nostra BCC è dotata di casse continue che riescono a soddisfare la clientela nell'arco della 24 ore senza mai interrompere i servizi in quanto si può accedere dall'esterno oltre che di una cassa continua all'interno della stessa BCC dove si può effettuare servizi di cassa durante l'orario bancario oltre ad essere muniti di due sportelli con operatore pertanto con questo tipo di offerta dovremmo migliorare quelle che possono essere state le solite e purtroppo non piacevoli file che si creano agli sportelli nei giorni di scadenze o in giorni particolarmente interessanti per la clientela Il nostro rinnovamento non è solo nelle mure o nella tecnologia ma anche quella del gruppo Noi siamo in procinto di partire col gruppo bancario Icrea dove noi ne faremo parte e la decorrenza sarà del 1 gennaio 2019 in ottobre ci convocheremo in un'assemblea straordinaria in cui aderiremo ufficialmente a questo nuovo gruppo e partiremo con un modo di fare banca totalmente diverso ma comunque garantendo la mutualità con cui noi fino adesso abbiamo portato avanti la nostra banca locale garantendo la territorialità ma con strumenti e con mezzi che sicuramente ci consentiranno di offrire alla nostra clientela e in particolar modo ai soci prodotti sempre più adeguati e sicuramente sempre meno costosi rispetto a quello che il mondo bancario ci gira intorno